Oggi è sabato 6 luglio 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 6 luglio 1937. Giovanni Bargigia diviene Vescovo di Vigevano. Verrà ricordato come il Vescovo sorridente per il calore e l'empatia, ma toccherà proprio a lui ufficiare il rito funebre per le vittime di uno degli episodi più croenti e inaspettati ai danni dei civili degli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1944 i nazisti fanno di Vigevano un grosso centro di stoccaggio di merci. Fabbriche e industrie vengono riconvertite per realizzare prodotti per l'esercito occupante. Autocarri militari fanno la spola per trasbordarli sui treni arrivando alla stazione ferroviaria. Dopo l'estate avviene una grossa offensiva aerea degli alleati contro le truppe tedesche. L'aeronautica degli Stati Uniti individua il ponte ferroviario sul Ticino come strategico perché via di collegamento tra Milano e il Basso Piemonte e la Liguria. Alle 18.30 del 15 settembre 1944 otto aerei americani mitragliano il treno viaggiatori che sta attraversando il ponte arrivando da Milano. Tre carrozze si incendiano. Si contano 19 morti e innumerevoli feriti. Una sopravvissuta, Adelina Baraldo, racconterà poi «In una confusione terribile lasciamo le carrozze. Ci fu chi saltò dal ponte, chi a spintoni e calci raggiunse una delle sponde del fiume e chi sceso verso lo stradone venne falciato dalle raffiche degli aerei. I corpi dei caduti e dei feriti erano sparsi per il treno e sul ponte. Fu una vera carneficina». Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.